Eccomi qua, dopo 1027 chilometri costo ben 41 euro con la carriola a metano ancora 100 metri e in spiaggia direttamente in auto splendida basilicata è mercoledì 20 giugno per una decina di giorni la base per andare a treni sarà Metaponto resta la nostra spiaggia per elezione nella campagna di Metaponto Don Pablo, la località, va da sé che dà sempre a borro e rifugio da luoghi turistici e strafrequentati dalla spiaggia lontano si scorge anche la ferrovia ionica di 472 chilometri fra Taranto e Reggio Calabria rimando ai videini di Brancaleone 2016 dalla carriola estraggo l'ombrellone usa e getta e conquistata la postazione al mare sgranchir gambe un imperativo attorno un paio di discreti e proprio piccoli lidi ristorante annesso la logistica è dunque salva a questo punto godersi splendida spiaggia e mare è imperativo a fine giugno naturalmente queste spiagge nel loro paesaggio naturale non soffrono certo di affollamento e la giornata vola se poi venite a cercarmi qui in spiaggia vabbè sono all'ultima e non so se rendo l'ironia ho appuntamento con una trappulella 668 che in quest'estate di lavori sui binari della Basilicata ha il capolinea a metà ponto le immagini ferroviarie si avvicenderanno in ordine cronologico legate o dal cristallino mare o dalla scoperta del territorio dell'antica Lucania la moderna Basilicata la stazione anno 1869 è sulla ferrovia ionica dove ancora corrono queste ALN 668 dei regionali Taranto-Potenza ma come detto per lavori da giugno-settembre ecco che alcune corse si fermano e partono da metà ponto a metà ponto delle ore 18.57 per Siveri e in partenza ferma a Calzano Iorco Policoro Romacchini Rosso Interiale Montegiorzano Roseto Caposbuico Avento Lara Previtas Villa Piana Questa trappulella me la ricordo una decina d'anni fa sulla ferrovia della Val d'Orcia è una Omeca del 1981 una delle 150 della serie 3100 ha i rostri paravacche le strutture in ferro a protezione dei carrelli così tipiche del deposito di Cagliari cordialissimo il capotreno mi racconta di essere stato 27 anni il macchinista quindi sono passato all'altra zona mettiamo il muto che sta venendo viene l'amico mia se no perdiamo l'aria perfetto ci siamo a a a a a a Runti via Runti via Sulla destra va la linea per potenza Tornerò per un viaggetto in trappulella A cena in posto piani Il prezioso pizzino sottomano La camera dà sulla piazza al centro del lungomare Piazza dedicata ad un olimpionico greco del V secolo a.C. Che a metà ponto nacque Necessari quater pass peptici A metà ponto visse e operò fino alla fine dei suoi giorni Nel 490 a.C. Il grande filosofo e matematico Pitagora Qui fondò anche una delle sue scuole filosofiche Questa scultura inaugurata il mese scorso È la Porta di Pitagora Una chiara celebrazione del Teorema di Pitagora Dietro a bordo spiaggia La grande scultura Un uomo che si slancia verso l'alto Dedicata a Alessidamo Giovane atleta greco di metà ponto Che partecipò ai giochi pitici Precursori dei giochi olimpici Alla cuiete di giugno Manca solo un bel freccia rossa Torno in stazione Dal dicembre 2016 Un'etr 400 freccia rossa 1000 da Milano Arriva in Basilicata Prolungando la sua corsa da Salerno Fino in Puglia a Taranto E fermando qui a metà ponto Stazione di metà ponto Il treno Eurostad 9547 Delle ore 23 e 30 Proveniente da Milano Centrale E diretto a Taranto E in arrivo al binario 2 Attenzione all'ostanarsi dalla linea gialla Treno in arrivo al binario 2 Prestare attenzione al binario 2 E in arrivo al binario 3 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 Renderò anche questo freccia rossa 1000 Ora però il riposo del pensionato Ma chi se la dorme non piglia treni Anticipo dunque le attività mattutine Dell'ottimo hotel che ci ospita Per apprezzare ora col sole La bella piazza sul mare davanti all'hotel Ormai la carriola ci sa andare da sola In stazione Erano i binari 5 e 6 Sul tronchino parte di un treno rinnovatore Una profilatrice, due rincalzatrici Un'altra profilatrice Come accennato Dalla 10 giugno al 9 settembre 2018 Lavori di potenziamento infrastrutturale Per l'elettrificazione Nella tratta Metaponto Sibari Rossano Con circolazione dei treni Quindi interrotta su questa tratta Della Ionica Bus sostitutivi Locomotiva E402A Costruzione Ansaldo Firema Metà anni 90 secolo scorso 6.000 kilowatt 220 all'ora Una serie di locomotive queste Destinate in un anno Alla trasformazione in E401 monocabina Per servizi intercity Vibe Per servizi indipendio Pereth Per Resinanti Per Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma ci faremo largo. Ho piantato così bene l'ombrellone che poi, per toglierlo, sarà come con Excalibur, la spada nella roccia. Quando i miei pensieri sono ansiosi, inquieti e cattivi, vado in riva al mare. Il mare li annega e li manda via con i suoi grandi suoni larghi. Li purifica con il suo rumore e impone un ritmo su tutto ciò che in me è disorientato e confuso. Rainer Maria Rilke E in Quaterpas sono la foce del Bradano che, scorrendo la piana di Metaponto, qui si getta nel Mar Ionio e fa da confine fra Basilicata e Puglia. Il Bradano nasce nell'Appennino Lucano, a Avigliano, 120 chilometri la sua lunghezza. Me le godo queste spiagge incontaminate e meravigliose, l'odore del mare, la sabbia finissima e soffice sotto le dita, l'aria e la salsedine nel vento, il respiro delle onde e che è musica. E l'acqua così accogliente. Per me è un'estasi una spiaggia solitaria. Eccola! Mi deliziala, pesciolino dance! E faccio paragoni a come io, invece, mi sbraccio, mi aggrappo, affondo, riemergo. Insomma, lo stile frana il mio. Stavo per dire battimano. Accennavo a gran cosa la logistica vicino l'ombrellone, anche solo per un'insalata a pranzo. Viene, infine, anche il tempo di iniziare il trasloco e stipare il tutto sulla CH4. Un atomo di carbonio, 4 di idrogeno. CH4, il simbolo del metano, ed è così che io chiamo la carriola. Metaponto, di per sé, e non presa d'assalto dai villeggianti, conta circa mille abitanti. Pitagora ci suggerisce ogni sera dove andare a cena. Conobbi il tremolar della marina, scrisse Dante. Ogni sorgere del sole ha una sua misteriosa grandezza. Fra le spiagge e la stazione c'è la riserva, il bosco di Metaponto, ben 240 ettari, pini, cipressi, eucalipti. La stazione accoglie ancora un simbolo religioso. Il secondo binario accoglie la trappulella 668, la 3160 che mi ero ripromesso di prendere. Alle 9.37 del mattino è il primo regionale del giorno potenza Taranto, il 3591. Le riprese in linea saranno al ritorno. Taranto si annuncia con le strutture industriali. Il porto è fra i primi in Italia per traffico merci e l'ilva è grande quasi come la città ma, ma Taranto, e questo che a noi interessa, è la città dei due mari, divisa in due dal mar grande e dal mar piccolo. Il meteo, vedo, tende ad essere quel cincinino meno favorevole. Arrivando in stazione andremo a sfilare la E444-056 che insieme alla 057 nel lontano 1975 divenne prototipo per la regolazione elettronica del reostato. il Schant Chopper venne poi riconvertita all'azionamento tradizionale elettromeccanico nel 1981. Anno 1868 il fabbricato Viaggiatori. Come sempre vado spiegando, questo videino ferroviario è Sulla splendida città, le mie, solo brevi note. Ordunque, uscendo di stazione, sulla sinistra è il mare piccolo, un mare interno formato da due segni, probabili origini vulcaniche. Questo il Borgo Antico. È una piccola isola, un ponte all'inizio, un ponte alla fine. Ai tempi dei Greci, qui sorgeva l'acropoli. Stiamo passeggiando lungo 3.000 anni di storia. Questa oggi è via Garibaldi sul lungomare piccolo. Fino al 1861 quest'isola era considerata la città. Una città fortificata, racchiusa nell'isola cui si accedeva da due porte collegate alla terraferma, Porta Napoli e Porta Lecce. Nel mare piccolo, grandi allevamenti di cozze, l'oro nero di Taranto. Ho chiesto loro il permesso per la ripresa di queste operazioni così caratteristiche. Racchiusa fra Possentimura, quest'isola era collegata con quella che oggi è la città nuova, da un piccolo ponte ad archi. Al suo posto, nel lontano già 1887, fu costruito un ponte girevole in legno, in presa Cotrò. Sopra, questo canale navigabile lungo 400 metri che unisce il Mar Grande al Mar Piccolo. Il funzionamento del ponte originale avveniva con turbine idrauliche alimentate da un grande serbatoio. Nel 1958, tutta la struttura venne sostituita, progetto Officine di Savigliano, da questo ponte in acciaio, ma analogo al precedente, e il funzionamento divenne elettrico. Le sue misure, 90 metri di lunghezza, 9,3 di larghezza e l'apertura dei due semiponti richiede circa 20 minuti. Oggi, però, le aperture sono un evento straordinario. Il Castello Aragonese, Castel Sant'Angelo, possente maniero di fine XV secolo, edificato su una precedente struttura normanna, basata a sua volta su un nucleo centrale bizantino del 780 a difesa dei Saraceni. Oggi è di proprietà della Marina Militare. Due marinai nell'atto di salutare le imbarcazioni che attraversano il canale. È il monumento al marinaio. Alto 7 metri, anno 1974. Ora, lungo corso, Vittorio Emanuele, lato mare grande del Borgo Antico. Due colonne d'oriche rimaste del Tempio Magno Greco di Poseidon del VI secolo a.C. Mare grande a sfondo lungo quel gioiello di via Duomo, scorci, vicoli stretti, dedalo di viuzze, palazzi antichi, chiese e piazzette, tanta storia. ma anche molto degrado, tanto abbandono, palazzi puntellati e case murate. Fascino decadente che stringe il cuore. La cattedrale di San Cataldo, il Duomo, costruita dai bizantini prima dell'anno 1000 e poi rimaneggiata, si presenta ora negli stili romanico, barocco, rococò, facciata barocca del 1713, abside però originale rimasta inalterata. Il campanile normanno distrutto da un terremoto ricostruito nel 1952 nelle forme antiche. Mangiar bene non è proprio un problema a Tarant. Scegliamo una singolare braceria con la macelleria nel piatto e atmosfera d'altri tempi. L'ipogeo di questo palazzo, a 4 metri sotto il livello del mare, mostra storia e eventi di due millenni. la curia, vicoli bassi, postierle, bellezze di Taranto, la romanico-gotica San Domenico del 1302. Vorrei ritrovarla così in la stazione, ma mi basta la trappolella che del periodo lo è proprio. E, indovinate, è sempre la 3160. Ah, il rom fare dei due Iveco 8217.32 sovralimentati. A questo punto, prima di lasciar Taranto, dai, un inserto ci sta, telegrafico, vado a sintetizzare il capitolo 4 di Abruzzo Puglia 2010. Nel mio canale YouTube pubblicati tutti i capitoli completi. In quest'inserto vedrete un documento, parola di Ferrovi Patico. Cito telegrafico una nota di soli quattro anni dopo queste riprese. 20 settembre 2014. Da oggi viene ufficializzata la chiusura da parte di Trenitalia del parco rotabili di proprietà sempre FS dell'Associazione Trenni Storici Puglia che ha sede a Taranto. Aggiungo io, fondata nel 1998. Naturalmente poi ci sono stati importanti sviluppi. A voi scoprirlo. di Trenni Storici Puglia di Treni Storici Puglia di Trenni Storici Puglia In stazione mi ha accolto, cordiale e premuroso da par suo, Antonio Olivieri, vicepresidente dell'Associazione Treni Storici Puglia e per inciso anche macchinista delle sud-est. Lasciamo la bella stazione di Taranto, risale il 1869 quando la ferrovia qui arrivò da Gioia del Colle e andiamo a visitare il Museo Ferroviario, museo che è all'interno delle OMR di Taranto e officine malutenzioni rotabili con annesso deposito locomotive. Certo, il dottor professor Oreste Serrano è il presidente dell'Associazione, ma in primis, concedetemelo il mio ricorrente preferito Lemma, è un ferrovipatico doc. Non è una sviolinata, riconosco, e la vedremo subito sul campo, la passione allo stato puro quando la rincontro. Lo duca mio di subito mi prese. No, non siamo nel ventitresimo dell'inferno. No, qui siamo già nel paradiso. Ecco, c'è la macchia mediterranea, la macchia umana, romanzo di Roth, c'è macchia nera e rivale di Topolino e c'è, porca mucca, la mia macchia sull'obiettivo. Una pronta, una quasi. Ora stiamo ripristinando i finestrini. Tolti dallo 01 mi hai detto che era incidentato. Sì, ora ti faccio vedere. Abbiamo saldato i cestelli dietro, delle che voi monteranno in piedi. Qua elimineremo il condizionamento dell'aria perché sta in condizioni di non funzionabilità. Questa l'abbiamo restaurata in tempo di record perché è entrata in asset e dopo due mesi doveva fare il primo treme. Il primo giorno 11 fa il secondo treme. Questa è del caro soccorso. Da, ti faccio vedere il nostro gioiello. La macchina pastore. La auto 85. Quella è unica, è spesso raro. Non gli manca nulla. Nel febbraio 2007, questa 835, anno 1921, è stata recuperata all'interno dell'arsenale della Marina Militare, qui a Taranto, dove giaceva accantonata da qualche decennio. Restauro estetico completo. Per il vapore si vedrà. Questa è una parte del treno che esce sempre. Siccome il treno in Italia non c'aveva soldi, abbiamo detto, la attrezziamo noi, come erano inseriti in asset. In valorazione hai il primo novecento, perché fuori, vedi? Verde. E stai attendo alla rigorosità storica. E i soldi. Ne abbiamo un sacco in queste, perché qui c'era una squadra di altro che ha chiuso. Questa, vedi, è un'altra vettura, però, con una disposizione diversa. Tente che abbiamo messo noi, buttate da altre in Italia, buttate. Le abbiamo allungate, abbiamo messo qua, abbiamo fatto perché tende non ce ne hanno date da nessuna parte. Abbiamo le nostre vetture che stanno lì, senza tente, solo quella della prima classica. Passiamo nella seguente. E' una vettura bilineggiata, tutta ottonata, l'abbiamo riportata all'originale, è questo che abbiamo paura, perché qua se vengono a rendersi conto che c'è l'ottone, con giravide ci smontano le svecche e che danno ci fa. E' un'altra vettura in alluminio. Nel frattempo anche Antonio si è ricongiunto a noi. L'abbiamo riportato a Gianni e ora toglieremo poi, quando abbiamo tempo, il bocchettone del telecomando, lo riporteremo ancora più all'originale. Ai anni Sessanta. Guarda cosa abbiamo fatto lì, una operazione di taglio della porta, abbiamo messo la saracinesca. Sono 28 i pezzi conservati. Ma un alto 6,36 però non cammina questo, questo è come ricambio, sta di là. Però questo è arrivato con le sue gambe. Questa è la nostra macchina di punta, vedi che meraviglia. Questa è la nostra macchina di punta, senza acqua e senza niente, vedo anche l'altro po' di vernice qua, poi questa la facciamo a Rossopeco d'anni Ottanta, perché non ce n'è nessuna in Italia. Vedi Teo Antonio che l'ha aggiustato queste? Sì, questo se l'ha aggiustato, l'ha aggiustato, l'ho cambiato tutto. Ah, l'ho sostituito proprio? Questo sostituito? Questo può sostituire, il pistolo. Sì, sì. Questa è proprio una delle ultime. Come vedi, è un piccolo deposito. Questa è quando esterisci quando mi prendi un mezzo, vedere la scadenza ciclica. l'incidente avvenuto credo a pallagianello nel 2005 questo è il nostro vagone ambulante della nostra associazione di seguito subito la trovai a Foggia Cervaro nella stazione di Foggia Cervaro completamente sfasciata non c'aveva niente però aveva soltanto le panche solo le panche solo le panche in che condizione non te lo dico io dissi la dobbiamo portare perché non io purtroppo mi sono ricordato tardi di questo discorso che erano 11 che stavano disponibili questa è arrivata senza vera tutti questi parotti tutta sfasciata piena di pietre di materiale dentro che tu non immagini guarda come l'abbiamo fatta questo è un altro gioiello nostro un altro pallino mio questa ci avevamo messo una croce nera sotto che aveva detto è morta ormai nessuno ci darebbe poi è venuto questo direttore questo è poi vedi abbiamo fatto il marchio regge poste e li montiamo noi li attrezziamo noi ora dobbiamo cambiare questo qui vedi che è rotto sotto però lo lasciamo andare perché abbiamo tanto da fare però tutti i mantici sono nuovi tutti noi abbiamo una trentina nuovi in quella trentina dovremmo tutti ridare indietro belle macchine l'ho chiamato un museo ferroviario in verità visti i tanti rotabili recuperati atti al servizio e che periodicamente vengono anche utilizzati per treni storici e turistici è più appropriata la definizione deposito rotabili storici di Taranto e la stessa associazione treni storici Puglia opera qui ben inserita in questo che oggi è ufficialmente l'officina manutenzioni rotabili di Trenitalia questo è dell'officina cittadella è rarissimo è della serie 0055 questo è l'area dei Trenitalia questo è unico nel sud Italia? è già l'unico Trenio in fossa nel sud questo è l'unico Trenio in fossa nel sud questo che abbiamo visto è l'unico nel sud Italia visitato è il nuovo grande deposito costruito a Taranto a fine anni 50, con ben 14 binari di servizio e questa nuova piattaforma. Beh, non è nelle migliori condizioni, comunque è ancora funzionante. A Taranto, deposito, officine, una grande piattaforma girevola di 22 metri e mezzo di diametro, nacquero già a fine ottocento, quando Taranto era collegata con la rete mediterranea proveniente da Napoli e con la rete adriatica proveniente da Bari ed erano gli anni in cui per la sua posizione strategica stava diventando la maggior base navale italiana. E Oreste mi mostra anche le formidissime scorte a fatica raccolte. Poi passiamo in sede con una gran raccolta di oggettistica ferroviaria storica. Però l'abbiamo smontato dalla stazione di Massani, è un pezzo di un'altra parte. Qua vogliamo fare un complaggio, abbiamo già sistemato il tavolo. Una curiosità, Oreste, quante foto hai scattato possiedi? Io ho più di 50.000 fotografie. E comprendendo e citando queste sue parole eccolo il modo migliore di ringraziare e salutare Oreste Serrano che mi sta pure riaccompagnando verso la bella stazione di Taranto Centrale nel suo stile un po' moresco voglio dire quasi sono tutte uguali se tu vedi Lecce tornerò a Cisternino dove questa mattina ho parcheggiato la mia CH4 via Francavilla Fontana torniamo al presente a questo fine giugno 2018 pronto a prendere la trappolella per potenza che mi lascerà a metà ponto ricordo che sulla Puglia Ferroviaria ci sono anche i 35 videini di Puglia Abruzzo 1995 e i cinque capitoli di Puglia 2012 ora torniamo alle spiagge della Basilicata a metà ponto ora torniamo alle spiagge della scuola ora torniamo alle spiagge della scuola